Dal primo giugno il Comune rilascerà le autorizzazioni ai commercianti per poter installare i deors. Nei giorni scorsi è arrivata in giunta la delibera del vice sindaco Raffaele Daniele per avere una rapida mappatura che permetta di definire piani particolareggiati attraverso i quali rilasciare le autorizzazioni. Gli interessati potranno dare una manifestazione di interesse e questo per evitare che arrivino richieste a scaioni che poi rendono più complicata la programmazione. Giocare d'anticipo sarà insomma la parola d'ordine. Si tratta di un progetto sperimentale per il 2024 che tiene conto dei cantieri, della sicurezza, delle esigenze dei commercianti e anche degli eventi e che cerca di agire in via preventiva per valutare le richieste e le aree dove poter concedere spazi. Ma questo anche in virtù delle tante iniziative che ci saranno per il 2026, anno dell'Aquila capitale della cultura. Nella delibera si fa espressamente riferimento ad alcune criticità emerse a causa delle tante domande degli anni scorsi e alle prescrizioni della sovrintendenza perché la troppa presenza dei tavolini e dei ors rischia anche di mettere in secondo piano i monumenti della città ma nel contempo i commercianti devono poter lavorare. C'è anche il discorso dei numerosi cantieri che rendono tutto più difficile. La scadenza delle autorizzazioni al 31 dicembre poi rinnovabili alla municipale spetterà il compito di individuare invece le aree per i pedoni esclusi al traffico veicolare. L'anno prossimo verrà invece approvato il piano dei ors che prevede massima attenzione al decoro urbano e agli spazi in generale.